Ragazzi, svegli e tardi! Paschka, muoviti pure tu che stai asciupando. Già mi accorti se il nodo è andato. Pronto? In quale ospedale? Senti, mariti, qualunque cosa hai bisogno conta pure su di me. Io sono a tua completa disposizione per qualsiasi cosa, te lo giuro. Mamma, ma che facciamo se il papà muore? State mettendo in mezzo a una strada una vedova con tre figli piccoli. Voi non durite né il cuore né un'ora! Io ti voglio aiutare, lo sai, te l'ho promesso. Spacciando troppo. Hai visto che è andato tutto bene? Io non tengo un amante ricco che mi finanzi. E forse perché non te lo puoi permettere un amante ricco. Io sono l'unica carta che hai, ma è una carta che costa. Ho sempre saputo che sei una donna senza scrupoli. Genna, lascia stare Angela. Che fai, i miei controlli? Circo solo di salvare il salvabile. Marco D'Amore, alias Ciro l'Immortale, ha fatto una scuola di recitazione durante la quale ha fatto diversi lavori per mantenersi. Il cameriere, il barista, il babysitter, volantinaggio e pure spettacoli di strada con clownery di tutto, insomma. In che ruolo vi piacerebbe vederlo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. E se anche voi odiate tantissimo gli spoiler, questa maglietta è per voi. In infobox trovate come comprarla. Ciao da Valeria.